Pergola è pronta per un suggestivo tuffo nel passato con la serata medievale, una rievocazione storica che si svolgerà venerdì 21 agosto. Un evento che sta crescendo anno dopo anno, tanto che il Ministero dei Beni, dell'attività culturali e del turismo lo ha riconosciuto tra le rievocazioni più importanti. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali e i gruppi storici di Corinaldo e Gubbio, anche quest'anno la manifestazione sarà ricchissima. Uno dei momenti clou alle ore 18 sarà la celebrazione di una santa mesta al Duomo preseduta dal Vescovo Trasarti. Settima edizione della nostra serata medievale che è cresciuta ogni anno e ogni anno ci dà maggiori soddisfazioni. Una rievocazione storica che perde veramente le sue radici nella tradizione, in ciò che ci viene demandata dai nostri antenati. Due buoi di grossa stazza trainarono per scelta del Vescovo di Gubbio le spoglie dei nostri santi, quelli che sono diventati i nostri santi protettori, che erano contesi tra tre città, Cagli, Gubbio e Pergola. I buoi non condotti da nessuno si girarono su loro stessi, giunsero a Pergola, si inginocchiarono di fronte alla nostra cattedrale e da quel momento i Santi II, Agapito e Giustina divennero i protettori della nostra città e noi gli dedichiamo l'intero venerdì 21 agosto. Non mancheranno i mercati medievali e gli spettacoli itineranti per le vie e le piazze del centro in collaborazione con gruppi storici provenienti da tutta Italia. Si parte dal mattino con la preparazione, con il clima, con il voler tornare centinaia di anni indietro nella nostra storia per scoprire gli scorci più suggestivi. Il clou della manifestazione comincia verso le ore 17 per finire a tarda notte, dico per finire il giorno successivo, il giorno 22, perché è un sano divertimento senza eccessi ma che può far divertire davvero tutta la famiglia, dai più piccini che potranno cimentarsi e potranno conoscere l'aquila reale o giocare con i falchi, fino ad arrivare i più grandi che potranno anche tirare con l'arco, con la balestra e potranno vivere veramente uno spaccato di vita medievale che solo Pergola sa proporre veramente nella cura di tutti i dettagli.